Tragedia a Lugo dove una donna di 68 anni è morta all'interno del proprio appartamento a causa di un incendio. L'allarme è arrivato intorno alle 13 da via Cento nelle case popolari nello stabile dove hanno sede anche alcune associazioni. La vittima è rimasta intrapponata all'interno della propria abitazione e non è riuscita ad uscire in tempo. A telefonare alla centrale operativa è stato un dipendente di Asar. Quando Vingili del Fuoco e personale del 118 sono entrati nell'appartamento e hanno trovato la donna, non c'era ormai più nulla da fare. I locali erano pieni di fumo. Probabilmente la causa del decesso potrebbe essere imputabile all'intossicazione. L'indagine ora è al bai dei carabinieri della locale compagnia. Sul posto è intervenuto anche il reparto investigazioni scientifiche.